Buongiorno a tutti e benvenuti a Mascon, siamo in linea di Saffarocchiali di San Michela Brangio e qui dietro di me c'è un strumento molto interessante, perché si tratta di un organo Mascioni e qui nella valle, la valle cronica, su una stessa elevante, è il secondo strumento più antico per un strumento di Toro Verba. E una cosa particolare di questo strumento è che, racconto a Canaria, Mascioni è una ditta molto grande, barese, e questo è uno dei suoi primi strumenti che ha realizzato il meccanico, circa intorno a via di un tanto, il palco dell'Ottocento. Ha dei strumenti molto particolari che adesso vedremo, degli campanelli, che è una cosa molto particolare, che è un'attività dell'Ottocento e potremo ascoltare quattro arti suoni pubblici. Eseguirò dei strumenti di musica classica, trascritti d'orocano e poi tra voi i figli adesso siamo fatti bene. Bene, quindi ti ringrazio e buon ascoltamento. Grazie. 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 Grazie.